Negli ultimi giorni abbiamo avuto una serie di piovaschi, è stata una cosa molto buona per pulire la barca dal sale e un po' di acqua dolce. Sfortunatamente non ho avuto il tempo di fare una doccia perché nei piovaschi c'erano sempre grossi salti di vento, cambi di vele, per cui non sono riuscito ad usarla per fare una doccia, ma comunque la pioggia è sempre una cosa positiva, specialmente a queste latitudini dove il caldo si fa sentire parecchio. Continuiamo a trovare, specialmente di notte, una serie di nuvole molto difficili da interpretare, a volte conviene usarle per il salto di vento che comportano, a volte invece conviene evitarle per cercare di evitare di rimanerci bloccati sotto. È molto difficile, è una parte molto strategica, l'abbiamo usata bene, adesso siamo a due miglia dal terzo perché tutto sta procedendo per noi. Grazie a tutti! Grazie a tutti!